Bentornati ragazzi, sono Feri, siamo di nuovo qua con Sakuna, come potete vedere c'è qualcosa di diverso Ho trovato guardando nei menu questo cappellino adorabile ed è enorme tra l'altro E' bellissima, comunque siamo tornati e andiamo avanti con il nostro gioco Nella prima puntata abbiamo visto un po' la storia generale e adesso andiamo avanti Non so cosa devo fare in realtà, devo parlare con te? No, devo andare avanti e basta Ma cosa ce l'hai già detto un'altra volta? Ciao bimbo, ciao altro bimbo, ciao bimba Dobbiamo andare a caccia Andiamo a caccia Salati qua, salano dalla parte giusta Non sono su questo, vedi questa cosa Sì, queste Ben questi, io voglio fare queste Ok, era giusto Ok, ok, perfetto Andiamo qui Ah, che si dà degli obiettivi anche Ah già, perché il gioco si può fare di giorno e di notte Ah Perché finalmente c'è il ciclo giorno-notte Tra l'altro c'è anche il ciclo delle stagioni, se leggete E' scritto spring in alto Questo cos'è? Ah, ho usato qualcosa Wow, ho usato dei materiali Passa, sei se ho sentito Sei se ho sentito Materiali Allora, quanto pare in questo gioco E' importante Farmare anche Quindi fare cibo Fare materiali Perché se no altri enti Non si può andare avanti E sopravvivere Quindi Noi siamo venuti qua A cacciare, in teoria Ok, non so che riguarda Questi sono nuovi Ok, non so che riguarda No, bisogna fare qualcosa con le veloci Perché se no altrimenti non mi fanno Oh Non riesco a prenderli Non riesco a prenderli Qui Ah, li ho finiti Quindi mi ha fatto la roba speciale Ok Ah, dice tutto qui Ah, dice Ho trovato delle cose da mangiare Ok Comunque non c'erano molti ma sicuramente Perché è molto vicino all'incantesimo Ah, ho già finito Ok Ah, no, aspettate C'è una roba Materiali Materiali Ok, perfetto Possiamo andare a questo Return to World Map Yes Bisogna tornare A casa Quindi Chissà Se hanno già fatto il riso Spiove Sono esastano Cos'è successo? Perché sono qui? Ho perso il cappello Comunque Eh, devo andare a pagare con Samurai E' successo qualcosa Boh, vediamo cosa è successo Avrà fatto casino Non vedo l'ora la piantata Samurai Ecco appunto Sicuramente non è riuscito a piantare Hai riuscito a riazzi Questa è tutto questo casino Ecco Ha perso i suoi semi Nell'acqua Ecco Complimenti Ah, ecco Sono guardato Ma non ha mai fatto Un cavolo di niente Così peggio della bimba Infatti Hai detto che potevo Sfidermi Ecco Non solo non so combattere Ma non so fare niente Complimenti L'odora ma non è capace Sperava di essere capace Ma Disonore a me Disonore alla tua mucca Ecco Ecco Non vogliamo Cioè Siamo un po' Dall'ora da resto Ehi Chinta Ecco Ecco Ho spaventato tutti quanti La madre qua Mi sto sgridando Perché non si comporta così Perché L'hanno trattato male Ha fatto solo un errore Ecco 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 Facciamo la pace Mangiamo la carne che ho trovato Ok Ecco Cucina lei Ecco Non so dove vieni Però Speriamo Ho un po' di paura E continuiamo a capire Perché lei Cioè Sia Sembra In un altro posto Cioè Non sembri Giocco Ecco Ecco E' molto buono A quanto pare Però Lo state mangiate Di nuovo Passare la notte Vedi è già BAT Possiamo Mettere Sti semi Ecco Quindi sostanzialmente Dobbiamo farlo noi Già capito Ovviamente Eh tesoro Invece Devi proprio farlo Non vuole farlo Perché c'è quello che donano a me E devo mettermi E invece Infatti Sua madre per esempio Lavorava ai campi A quanto pare Anche la lady Di prima Kamuhitsuki Ha fatto questo lavoro Sì Dice che comunque Dobbiamo Dargli da mangiare In qualche maniera Insegna come farlo Devo farlo io Ok Allora Quindi l'altro giorno Mi ho cacciato E oggi Piantiamo In sostanza Start Plunge Non so bene Dove devo metterli In realtà È storto Ops Vabbè Non so Devo mettere In una certa distanza O meno Cioè Penso Come li metto Va bene Cioè Sono come le vere Pianti di riso Ci bisogna di un po' Di spazio Tra una e l'altra Se non lo ricordo male Però non sono sicura Di questa cosa Texting Guarda All'indietro Invece che andare in avanti Tra l'altro Perché Mi fa così Diciamo Lo fa apposta Ok Lo fa apposta Molto bene Stavo di essere io Storta Forse avrei dovuto fare Così dall'inizio Vabbè Non importa E' carino Vabbè come dire lezze ah ok poi farlo fare agli altri però la qualità diminuisce quindi ragazzi non fate come me nel senso fate come sto facendo adesso non come ho fatto prima giocate anche voi infatti mi ne avessi veramente come l'ho messi io e si vede tutta la zona di stupida e quella invece fatta bene ha fatto un buon lavoro bene o male e adesso cosa dobbiamo fare? ok ah devi andare a mettere l'acqua molto alta siccome è risolverlo adesso siamo liberi di fare quello che vogliamo ok e andiamo a vedere su story se vogliamo vedere non siamo sicuri cosa dobbiamo fare tanto salvo io scusate un attimo e poi andiamo a vedere su quest quindi cos'ho ok ok ho questa ho pure ah ne ho due ok ok se no side quest noi non ne abbiamo ancora sono solo queste andiamo posso fare che c'è il riso cosa devo fare blow the rice check ah pensa a te ma come ho fatto bene me lo aspettavo aromatista aesthetic ma pensa a te ma pensa a te sa più bene io vorrei aprire l'acqua o due no di più o due forse devo prendere un altro però devo aspettare non capisco ah devo aspettare forse sta riempiendo ok credo sta riempiendo però non si si ok sta niente quando non si vede più la terra devo chiudere chiudi no chiudi così penso vada credo spero però non posso fare niente per solo crescere di più check cos'è ah c'è una roba non avevo mica capito io check prendiamo un po' se qui cosa c'è una ma ci sono rane c'è roba da prendere in giro non lo sapete ok eh tizio quindi cosa devo fare ok mi devo aspettare non posso fare nient'altro nel mentre allora ok cosa vuoi il bambino ah la spada perché la sta sissando non sono una bambina io ecco infatti sono una dea ecco no serve proprio una dea ecco come fa all'arrabbiare cosa succede? vuoi diventare forte vorrei non è che vorrei proprio avere una spada o cosa del genere però ah vuole farla vuole 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 imparare a farle non usarle ok ah vuole farti fare un cotone della cucina ok fighissimo dai siamo una forge godessor buddha ho chiunque il tuo diritto di essere vabbè ecco scusa mi dispiace prima ti devo chiedere una cosa facciami una forge ci penso va bene ecco devo trovare i materiali lo metto come obiettivo aiuto mi tenere l'acqua ehm vedo che c'è qua a caso ok niente però per trovare devo andare in missia a fare le missioni allora ok molto bene come cammina mi fa troppo ridere scusate sto ancora a osservare oh c'è qualcosa lì cos'è è simile comunque mi fa troppo ridere come cammina devo ancora esplorare bene tutto perché ancora non l'ho fatto check cosa c'è cos'è ah ok quindi mi vuole allora possiamo andare a fare altre missioni a questo punto e si vedono qui allora quindi proviamo a fare questo a questo punto no questo e devo andare giù di qua per esplorare andiamo ad esplorare sento spring uno due tre cosa vorrei dire perché adesso siamo a tre prima eravamo a due ma io andavo a fare ma io andavo a fare tutto questo giro per aprire la mappa c'è un tipo uno shortcut probabilmente non lo so io ma c'è beh allora non posso andare nessuna parte tranne qua e qui ma questo mi sembra di livello più alto mi sembra non so perché esplorare esplorare c'è un 50% 0% boh vedete proviamo a andare qui si chiama dragon tunnel tra l'altro come vi dicevo prima ho visto che cambia giorno notte e di notte come avete visto il livello di nemici è più alto quindi dovete fare attenzione e al contrario mi disturba questa qua di solito e da sinistra verso destra ok qui c'erebbe quello è una missione di zero poi una volta però mi sembra un livello troppo basso per farlo ancora prima ho visto che mi ha lasciato qualcosa ma non l'ho preso è andato perduto o me l'avrà dato questo adesso vabbè ma tipo una bistecchina vabbè ma cosa c'è qua uh interessante cos'è questa certo infatti ma non posso aprirla ok non posso aprirla servirà più avanti c'era un meme di topolino questa è una sorpresa che ci riterà più avanti ma mi ha presa ma mi ha presa al volo ma è meglio di me questo ma perché non me lo prende scusate vabbè 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 spengo picchiato ecco zinpai vabbè vabbè Sì, sì. Questa l'hanno già fatto Stiamo facendo al contrario La cava di prima Secondo me Oddio sì Mi dà proprio la bistecchina di coniglietto Comunque sì Stavo facendo fare la cavera di prima al contrario Mi è già venuto il dubbio Però non ero sicurissima Che fastidio Oh oh Andata la notte Aiuto È diventato pure più buio Eh infatti Se andiamo a casa Forse è meglio E posso andare a casa? Così? Forse così? Ah sì Ok me lo fa Non ero sicurissima Io posso fare missioni di notte Però Il livello è molto più alto Cioè Per farvi capire Chi dice Livello 7 Penso voglio dire E E ci sono anche delle missioni Come potete vedere Di nemici solo di notte Però Devo finire Quello di Dei nemici lì Solo che è notte adesso Quindi non ci posso andare Devo per forza andare a casa E Passare la notte E poi tornarci Perché sono di livello Troppo alto Perché Il livello come si vede Tra l'altro Adesso andiamo a casa Penso sia al 3 Di livello No 2 Addirittura Quelli sono al 7 Direi che Non è il caso Cos'è? Cos'è? Ah Non so più che cos'era Non è entrata a casa Scusate È per allenarsi Ok Molto bene Ok Va bene Ops Scusate Ah ti dici Ti puoi insettare Cosa mettere Per allenarti E poi fare Start Ma pensate Questo invece Obtain some scrolls Ah ok Sono quello che ho trovato prima Per esempio Con delle scritte Forse sono delle skills Ok Sono arte della battaglia E arte del farming Sono stati andati persi Ma Probabilmente adesso Io più in più Non li troverò Durante il gioco Quindi Ah guardate Quanti ne ho trovati Vadoo Trovati anche prima Mentre giocavo Bene Per allenarsi Bisogna venire qui Un buono sapersi Io l'ho aperto a casa Insomma Sono un shortcut Per andare al piano Di sopra Invece E quindi adesso Se volessi dormire Come faccio No Questa è La Credo Non penso sia questa la casa Non sono ancora entrata Ok Questa è la dispensa Penso Una roba del genere Della regna Della roba qui Non è La casa dove si dorme Comunque La casa dove si dorme Di qua Ok No Gli dice Che gli spiace Che il cibo Non fosse buono Anche Farà delle ricette migliori Delle persone Dell'unica Mi fa vedere Delle ricette Probabilmente Ah Gli dice Di vado a trovare Gli ingredienti Vediamo Così saranno Le stanze Per dormire Sì Sono tutti Che dormono E la mia Stanza Per dormire Questo Sì Sarà Questa Pico Spider Ci sono Cosa Prendiamoli Serviranno Qualcosa Comunque Sta prendendo Tutti gli insetti E se li mette in tasca Ma io voglio dormire Ma come si fa a dormire Sto gioco Non ci fa a parlare Questa roba Terreno Cioè Cioè tipo Vai passare Il tempo Quelle cose Così Che ci sono Gli altri giochi Tu Warmark No Ma Cioè Non può essere Che devo aspettare Il tempo E basta Quindi Proviamo Andare a fare La missione Notturna A sto punto Anche se Ho un po' Paura Di come andrà Finire Proviamo Lo stesso Sto che devo uccidere 30 nemici Qua Proviamo Oddio Buissimo Ma non c'è Tipo una torcia Qualcosa Non c'è Niente Ma i nemici Li vedo Almeno No Non c'è Più Roba Perché sono Passata Ero già Solta Più Niente Più Sante Buissimo E gli occhietti Rossi Non mi faccio Niente Sono fortissimi Non mi sto togliendo Niente Ma poi Non mi sto Alzzarsi Per se Di non Biccare Quanto ci metto A mazzare Pazzesco Che beccano Grande Ma a sto punto Cosa faccio Scappo Bassa Cioè Guarda quanto mi levano Sì Scappo 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 Questi livelli Bisogna scappare Quindi Molto bene Però io C'è la posizione No Boh Non capisco Non posso fare Niente Cioè È finito Il livello Qua Me ne vado Sto morendo Sto uno Di vita Tipo Ok Non posso fare I livelli Nattorni Ragazzi Abbiamo capito Questa Torniamo a casa Tra un po' è giorno Ho fatto passare Intanto un po' di tempo Boh A sto punto Stavo guardando Già mezz'oretta Che siamo qui Potrei Chiudere La seconda puntata E andare avanti Un altro giorno Anche se volevo riuscire A prendere un po' di materiali Però appunto Cercherò su internet Per capire Se devo veramente Aspettare giorno Notte O se posso fare qualcosa Perché Sennò altrimenti Diventa un po' problematica La cosa E vi faccio sapere Comunque Per oggi Chiudo qui La seconda puntata E vi aspetto Appunto Per le prossime E ricordate che potete Seguirmi anche Sul sito Viola Per le live E grazie come al solito Per avermi seguito Qua piove sempre Ciao Alla prossima